Basciano primo tra i comuni in provincia di Teramo che hanno una popolazione entro i 5.000 abitanti per la raccolta differenziata. Per questo motivo Lega Ambiente la premiata per l'ottimo risultato raggiunto nel 2020, un sistema che ha permesso di abbattere i costi sulla Tari già negli anni passati e che permetterà la stabilizzazione di tali tariffe nei prossimi anni. Quest'anno per i dati relativi all'anno 2020 abbiamo raggiunto l'80% di raccolta differenziata, una percentuale davvero importante che tra l'altro è la percentuale più alta in provincia di Teramo. Tra l'altro siamo stati premiati a Lega Ambiente per i comuni tra 0 e 5.000 abitanti per il risultato raggiunto, un risultato che è stato reso possibile solo grazie ad un grande lavoro da parte dell'amministrazione, degli uffici, nella formulazione del bando e di chi tutti i giorni lavora per la raccolta differenziata a Basciano. Un risultato che ci orgoglisce, nel 2019 abbiamo avviato un nuovo sistema di raccolta, tra l'altro a tariffa puntuale, introducendo questo nuovo metodo di tariffazione della Tari. È un risultato che ci rende davvero felici e orgogliosi per l'ambiente, perché l'ambiente così riusciamo a conferire una minima quantità di indifferenziati in discarica, ma che permette anche di avere notevoli risparmi sulla tariffa che i cittadini pagano. Una tariffa che negli ultimi anni è scesa in maniera importante, appunto grazie a questo nuovo sistema di raccolta e che contiamo negli anni prossimi di migliorare ancora. Uno sforzo compiuto da tutta la popolazione che ha permesso di raggiungere l'80% della raccolta differenziata nel comune. Un'educazione cittadina che grazie all'Istituto Comprensivo di Basciano parte anche dai più piccoli. Questo sistema appunto di raccolta a tariffa puntuale ha richiesto uno sforzo iniziale da parte delle famiglie di Basciano importante, ma noi abbiamo lavorato a 360 gradi anche con l'Istituto Comprensivo di Basciano che si è occupato di formare i ragazzi presenti nelle nostre scuole. Nelle nostre scuole sono svolti tantissimi eventi appunto formativi sull'importanza dell'ecosostenibilità. E questo io sono sicuro che ha contribuito anche in maniera importante perché quando si parte anche dai più giovani sicuramente a casa si riesce a raggiungere un risultato più importante in termini di raccolta differenziata.